Restiamo in tema per parlare di 5 scuole europee impegnate in un musical in cui i protagonisti canteranno e parleranno nelle lingue comunitarie. Al via Palermo il terzo incontro internazionale del progetto Erasmus The European Music Show. Sentiamo. È iniziato presso l'istituto comprensivo Padre Pino Puglisi di Palermo il terzo incontro internazionale del progetto Erasmus The European Music Show che impegnerà per i prossimi due anni 5 scuole europee di Francia, Inghilterra, Italia, Germania e Spagna. Il programma prevede la realizzazione di un musical firmato da un regista francese in cui gli alunni delle scuole coinvolte balleranno, reciteranno e canteranno nelle 5 lingue comunitarie. Questa settimana che va dal 15 al 20 maggio a Palermo verranno riprese le scene dell'episodio italiano. Venerdì ci sarà un concerto a Palazzo delle Aquile in cui tutti i partner si esibiranno e canteranno le canzoni che hanno scritto perché i nostri ragazzi, i nostri partner hanno scritto i testi e le canzoni e la musica è stata composta dagli insegnanti di musica e di strumento. Oggi in questa sede si realizza un sogno che è quella realtà dell'Unione Europea che oggi qualcuno mette in dubbio. I nostri ragazzi invece la fortificano attraverso la loro azione di gioia e attraverso anche la musica. La madre Pino Puglisi oggi è contenta e realizza un percorso che ha sviluppato in diversi mesi grazie all'aiuto di tutti. Noi nella scuola primaria abbiamo dato il nostro contributo con la tarantella, con canti, faremo anche una piccola scena ed è stato per tutti, anche per i stessi bambini, seppur di un'età inferiore, è stato molto coinvolgente ed emozionante. Grazie. Grazie.